Musica 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 Un sanziamento quasi perso Era quasi perso Diciamo che era perso E grazie all'impegno Della struttura Della amministrazione comunale L'assessorato Alla cultura L'aereo urbano E al patrimonio ambientale Che abbiamo recuperato Questo finanziamento grazie anche al supporto Della regione che ci ha accompagnato In questo progetto In questo progetto Presente il dirigente La dottoressa Silvia Pellegrini Che vi ringraziamo Per l'attenzione che ha dedicato Questa città A questo investimento Ma soprattutto A Foggia Perché questa è una piazza che Riqualifica Riqualifica Questo quartiere E da decoro quello che serve a questa città Riportarla alla bellezza Riportarla alle origini Questa ritorna un po' a vivere Questa piazza Con questa bellissima chiesa Quindi questo è l'ultimo botto Di fine anno Non vi aspettate più nulla Perché poi ci dobbiamo andare in vacanza Va bene Auguri e buon Natale Aspetta Aspetta Grazie 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 a tutti.